In un mondo assolutamente globalizzato in cui vi è una continua interconnessione delle problematiche, delle opportunità, anche delle minacce, è evidente che occuparsi di questioni di rilievo internazionale e esaminare e approfondire i grandi temi geostrategici costituisce un ovvio arricchimento per le future classi dirigenti di qualsiasi paese, rappresenta una importante occasione anche di riflessione su questioni che hanno attraversato il mondo negli anni più recenti e che lo attraversano oggi. L'idea quindi è quella di un corso che muova dall'analisi delle situazioni che hanno portato e portano alla instabilità o viceversa alla stabilizzazione di intere regioni o di singoli paesi e affrontarle in un quadro di comunità internazionale, di reazioni o di azioni delle Nazioni Unite, della Nato, dell'Unione Europea, delle organizzazioni regionali che evidentemente hanno responsabilità.